Trasparente, dimenticato, abbandonato, lasciato a se stesso, grida di dolore il mondo dell'abbigliamento sposa e cerimonia. Un settore fantasma in questa crisi epidemica che sta portando via tutto. È dura sentirsi immisibili per chi vive di sogni e crede nell'amore. Quel nemico fantasma che ha messo in ginocchio tutti sta cercando di portar via anche la dignità ed è per questo che lo Stato, garante della pluralità, deve intervenire salvaguardando l'eccellenza italiana dinanzi agli occhi del mondo. Il settore dell'abbigliamento sposa e cerimonia può inginocchiarsi soltanto per un sì, lo voglio, non perché diviene come un vetro, fragile e trasparente. Il mondo sposa e cerimonia, che misura una produttività da oltre un milione di euro, è ormai diventato un settore fantasma, assimilato all'abbigliamento generico. Non può essere comparato ad esso perché l'imprenditoria, sposa e cerimonia diffonde arte in un lasso di tempo ristretto, basando il proprio operato su un principio di stagionalità. Vestire di bellezza ed eleganza i sogni vuol dire donare qualcosa di unico che valorizzi le sinuosità corporee. Come potrà la distanza sociale consentire tutto questo? L'arte sartoriale è come una fata che ha bisogno di toccare, di apportare la propria creatività per realizzare unicità. Con l'annullamento e le restrizioni degli eventi significa far sparire milioni di persone che lavorano dietro una macchina dei sogni. Non spegnete i sogni. L'Italia intera ha bisogno, ora più che mai, di credere in qualcosa.